bentornato gutier bentornata proseguiamo il percorso del menu che si crea dal pulsante start a questo punto dobbiamo parlare della sezione sistema a cosa serve nella lezione 125 e rispettivo video tutorial puoi già visionare le funzionalità di questa sezione trattata per windows 7 qui la ritroviamo per windows 8.1 update serve a visualizzare un riepilogo delle informazioni sul computer a modificare le impostazioni per l'hardware le prestazioni e le connessioni remote come si avvia naturalmente dal menu start individua il pulsante sistema e cliccaci sopra all'apertura visionerai la versione e l'edizione del sistema operativo una informazione sul tipo e velocità del processore la quantità di ram installata il tipo di sistema operativo inoltre il nome e la descrizione del computer del gruppo di lavoro lo stato di attivazione e numero di serie del sistema operativo sul lato destro puoi trovare eventualmente questa zona la marca del pc ed un pulsante cambia impostazioni cliccandoci sopra si apriranno delle operazioni che più o meno potrai visionare tramite questi pulsanti posti in alto a sinistra che saranno gestione dispositivi impostazioni di connessione remota protezione sistema e impostazioni di sistema avanzate per la prima sezione ti rimando direttamente alla sezione 163 e rispettivo video tutorial che già abbiamo trattato con la seconda opzione è possibile a consentire o meno di ottenere assistenza a distanza in modo di poter comunicare con un altro computer per attivarla dovrai ovviamente mettere il segno di spunta su consenti connessioni di assistenza remota al pc e poi cliccare su ok ovviamente è necessario autorizzare la connessione per il controllo a distanza non è automatico quindi con il pulsante avanzate può impostare anche il tempo massimo minuti ore e giorni per a consentire l'accesso a questo pc per consentire ad un altro pc appunto di connettersi a questo computer oltre a software di terze parti che potrai senz'altro utilizzare potrai impiegare la funzionalità integrata in windows chiamata desktop remoto nella sezione appunto puoi selezionare se consentire o meno l'accesso tramite questa funzionalità eseguito ciò dovrai selezionare gli utenti a cui concedi l'accesso remoto dal pulsante omonimo quindi cliccando sul pulsante aggiungi può effettuare una ricerca in base a dei parametri filtro e tra tutti quelli connessi alla rete selezionerai l'utente a cui consentire l'accesso remoto da questa sezione potrai accedere anche alla guidallina della microsoft con due pulsanti che ti saranno utile per migliorare la conoscenza di questa sezione e sono informazioni su assistenza rimota oppure suggerimenti per la scelta riferito appunto a desktop remoto cliccaci sopra se ne vorrai sapere di più dal terzo pulsante protezione sistema puoi accedere a ripristino configurazione sistema già trattato nella lezione 122 e video tutorial ad intervalli regolari il sistema salva informazioni realtiva le impostazioni e ai file di sistema su un punto di ripristino a cui potrai tornare in caso di problemi puoi anche creare manualmente un punto di ripristino tramite il pulsante crea inserendo il nome per una sua identificazione il pulsante invece configura consente di gestire i parametri del punto di ripristino come la sua attivazione o disattivazione e quanto spazio sul disco rigido dovrai dedicare a questi punti di ripristino una percentuale in base allo spazio disponibile e potrai anche eliminarli qualora lo spazio occupato fosse sufficientemente alto con il quarto pulsante della sezione accedi alle impostazioni avanzate di sistemi qui troverai altri pulsanti ma focalizza la tua attenzione su prestazioni e avvio ripristino tramite il pulsante impostazioni di prestazioni potrai accedere alla selezione delle impostazioni per adottare l'aspetto delle prestazioni del pc in base all'aspetto che si presenta potrai scegliere di ottenere un pc più estetico o più reattivo in questa finestra trovi anche una sottotensione denominata avanzate che ti consente di determinare la memoria virtuale chiamata anche file di paging e potrai gestire questo parametro per il sistema operativo o lasciare che il sistema operativo se ne occupi in maniera indipendente oppure tu manualmente potrai scegliere quanta memoria virtuale dedicare al sistema operativo è un file che consente al pc di utilizzare una parte del disco rigido qualora la ram sia satura di lavoro ma naturalmente per le configurazioni oggigiorno utilizzate è abbastanza difficile che la ram sia satura a meno che non avvi programmi di grafica rendere video molto molto pesanti nella sottosezione invece avvio e ripristino puoi selezionare il sistema operativo il sistema operativo principale se ha installato più di un sistema operativo ad esempio dual boot quindi da questo menu potrai scegliere quale dei due o tre sistemi operativi installati è il principale e per quanti secondi dovrà visualizzarsi la lista dei sistemi operativi eventualmente da scegliere tramite questo segno di spunta oppure quest'altro che ti permetterà di selezionare se e per quanti secondi visualizzare le opzioni di ripristino qualora il computer sistema operativo non si avviasse correttamente nella sezione invece errori di sistema trovi dei segni di spunta su scrivi l'evento nel registro eventi di sistema che trascrive tutti gli eventi occorsi al sistema operativo per una consultazione futura per eventuali diagnosi oppure anche riavvia automaticamente se si presentano dei problemi vedrai che il pc si riavvia automaticamente personalmente deseleziono quest'ultimo segno di spunta in modo da poter leggere eventuali messaggi che il sistema operativo notifica prima di riavviarlo manualmente altre impostazioni le tralascerei in quanto troppo spinte per questo livello infine nella sezione proprietà del sistema trovi due sezioni nome computer e hardware in pratica sono queste due con la prima puoi cambiare il nome del pc ovviamente cliccando sul pulsante cambia e riavviando il computer con la sottosezione invece hardware ti rimando appunto alla lezione 163 e rispettivo video tutorial perché potrai visionare gestione dispositivi inoltre può decidere su alcune impostazioni sull'installazione dei driver dei dispositivi se eseguire automaticamente come scelta consegnata naturalmente l'installazione dei driver oppure qualora tu lo voglia chiedere ogni volta l'installazione dei driver notificando un messaggio a schermo una ricerca ed installazione automatica oppure e quindi potrai decidere se ricercare ed installare automaticamente i driver oppure allertarti quando è necessario infine dalla sezione sistema in basso troverai altri due pulsanti centro operativo e windows update per il primo avvi la sezione di gestione delle notifiche del centro operativo puoi guardare senz'altro la lezione 105 per windows 7 e video tutorial collegato che è abbastanza simile infine per windows update ti rimando anche qui alla lezione 130 e video annesso per ricordarti come si mantiene aggiornato il sistema operativo eccoci in zona pratica andiamo a vedere subito il pulsante start tasto destro clicca sul sistema e si avvierà questa sezione dove potrai visionare l'edizione di windows in questo caso 8.1 pro update alcuni parametri relativi al processore e la ram impiegata impostazioni relative al computer il nome e il gruppo di lavoro di cui fa parte se attivato e il numero di serie qui potessi trovare anche la marca se fosse un pc di una determinata azienda qui puoi cliccare sul pulsante cambia impostazioni che ti presenta un menu che vedremo più avanti ed eventualmente ti necessita di cambiare il product key clicca su questo pulsante e dovrai inserire il nuovo product key se questa è una versione da attivare o con una licenza nuova che hai acquisito qui trovi altri pulsanti gestione dispositivi che ti rimanda alla lezione 163 di cui abbiamo già precedentemente parlato il pulsante impostazioni di connessione remota ti permette di consentire o meno l'accesso a questo computer tramite un'assistenza remota cliccando su avanzate potrai impostare il numero di ore minuti o giorni al quale consentire accesso a questo computer e se gli invidi che elargirai saranno utilizzati per computer che hanno almeno windows vista sopra in questa sezione puoi abilitare o meno il desktop remoto la funzionalità integrata in windows 8 che ti permetterà appunto di accedere a questo computer sfruttando questa funzionalità integrata senza utilizzare software di terza parti qui potrai selezionare gli utenti aggiungendone e andando in ricerca da eventualmente utenti presenti all'interno di una rete cliccando su avanzate potrai cercare una lista di eventuali utenti che si trovano nella tua rete una volta selezionato potrai cliccare su ok e potrai così concedere accesso a questo computer per assistenza chiudiamo questa schermata andiamo avanti nella descrizione protezione di sistema apre di nuovo questa sezione che ti permette di selezionare il ripristino configurazione di sistema quindi avviare il ripristino del computer ad un punto già prefissato qui te ne mostra già una oppure se ne avesse già selezionati altri potrai andare avanti nella selezione di un punto mostrando di eventuali altri punti che il sistema ha precedentemente selezionato quindi se eventualmente il software installato non dovesse funzionarti bene senza reinstallare tutto il sistema operativo potrai ripristinarlo a una condizione antecedente all'ultimo software che avrai installato per il momento annulliamo questa opzione che non ci compete potrai anche creare un punto di ripristino dando il nome a questo punto di ripristino che potrai andare a creare attualmente citando ad esempio la data di quando lo crei oppure potrai configurarlo attivando innanzitutto le impostazioni di ripristino e decidendo poi lo spazio che andrai a dedicare affinché il sistema operativo utilizzi questo spazio per memorizzare i punti di ripristino come puoi vedere può anche essere abbastanza corposo quindi eventualmente lo attivassi non dedicare molto spazio del tuo hard disk perché questo ovviamente andrà a ridurre il tuo spazio disponibile potrà anche eliminare eventuali punti di ripristino precedentemente creati ora io disattivo naturalmente per questo specifico sistema operativo in quanto è utilizzato semplicemente per mostrare queste lezioni ma è consigliabile che tu lo attui sul tuo computer di lavoro impostazioni di sistema avanzate ti apre questa sezione che ti permette di impostare le prestazioni del pc puoi scegliere o una scelta automatizzata o come di norma io preferisco regolare in modo da ottenere le prestazioni migliori cliccando su ok naturalmente avrà acquisita questa nuova impostazione la posizione avanzate ti permette di gestire la memoria virtuale che in questo caso è fissata per un giga e quattro potrai anche cambiare come puoi vedere in questo caso il sistema gestisce automaticamente il file di paging oppure se lo vuoi impostare manualmente dovrai selezionare il valore che tu scegli potrai impostare le dimensioni gestite dal sistema oppure addirittura non impostare alcun file di paging se tu hai una sufficiente ram o impostare il valore che meglio prediligi attualmente le condizioni impostate sono un minimo di 16 mega e un valore attualmente impostato di un giga e 4 qui consiglia un valore di tre giga e mezzo qualora tu dovresti impostarle manualmente scegli i parametri minimo e massimo quindi quello iniziale e quelle massimo cliccando su imposta avrà impostato il file di paging in maniera manuale ma io per questa specifica sezione lo lascio in maniera automatizzata altre due sezioni trovi in questa finestra il nome del computer a che attualmente è the goody ma potrai decidere tu di cambiarlo scegliendo il tuo nome o casa o quello che preferisci cliccando su cambia dovrai impostare il nuovo nome potrai impostare se il computer fa parte in dominio oppure un gruppo di lavoro denominato work group che ti potrà essere utile per creare la tua rete domestica quindi magari se non hai grosse necessità poi anche lasciare questo nome naturalmente cliccando su ok verranno acquisiti i nuovi parametri dovrai a consentire al riavvio del computer ultima sezione hardware da qui accedi alla gestione dispositivi e quindi tornerai alla lezione 163 e quindi per questa sezione possiamo terminare la descrizione giusto per farti notare gli altri due pulsanti che trovi in questa schermata centro operativo che ti permette di evidenziare tutte le notifiche del centro operativo relative alla sicurezza e alla manutenzione quindi se magari non è installato un antivirus oppure è disattivato se ci sono delle impostazioni di sicurezza da migliorare qui le potrai gestire da attivare come vedi qui è un po spartano e molto del software non è attivato ti ripeto semplicemente perché io lo voglio mantenere molto leggero per utilizzare soltanto per una descrizione delle lezioni quindi a scopo didattico ma naturalmente un computer di lavoro deve essere sottoposto a sistemi di sicurezza attivi qui potrai anche cambiare alcune impostazioni che in parte già abbiamo visto durante la descrizione di questo sistema operativo tornando indietro andiamo su windows update che ti permette di verificare la disponibilità degli aggiornamenti rilasciati dalla microsoft potrai attivarlo semplicemente cliccando su controllo aggiornamenti oppure cambiare le impostazioni e scegliere dal menu se installare scaricare o semplicemente verificare che ci siano disponibili aggiornamenti rilasciati dalla microsoft ti ricordo che è sempre cosa buona mantenere il sistema operativo aggiornato anche se è conveniente andare a selezionare gli aggiornamenti da installare perché altrimenti se tu lasciassi fare il sistema operativo lui ti potrebbe installare aggiornamenti anche per software che non ha installato vedremo che in windows 10 questa opportunità ci è un po limitata in quanto la microsoft non rilascerà l'opportunità di selezionare il software da installare per gli aggiornamenti nella prossima lezione girovagheremo ancora da queste parti il menu che si crea dal pulsante start ora un forte saluto ciao a presto da gallo e dalla prossima ciao a presto ciao a presto ciao a presto